Musica Agatino Chiavaro, che ritorno, diciamo le cose come stanno, un ritorno che magari fa sorridere ma anche stimolare tanto per la tua carriera quando tu qui hai vinto una Supercoppa e sei arrivato in finale di Coppa Italia le sensazioni quali sono? Intanto è passato tantissimo tempo, è cambiato il bici sicuramente meglio per cui c'è da lavorare, da mettersi sotto per poter ripetere e migliorare le prestazioni che facevo un po' di tempo fa Sembra un po' un muro di Berlino, no? Tu, tuo fratello Alfio, Ruico Imbra si parte con loro tre poi c'è anche il Jolly Corosiniti che quando c'è bisogno si può adeguare anche da centrale cioè il quartetto non è male? Sì, diciamo che si è costruita la squadra in maniera da avere tutti i ruoli ben coperti la squadra è fatta da, non tocca a me dirlo, ma da gente che fa nazionale, che da tanti anni fa questo sport che da tutti è riconosciuta come i migliori, per cui io devo solo rubare un po' di mestiere e mettere a disposizione del mister Umiltà e lavoro, ingredienti fondamentali, la piazza spinge tanto anche questa squadra, però profilo basso e si va in Coppa Italia con cosa nella testa? Intanto bisogna lavorare, non tanto pensare agli obiettivi quali sono, perché se si lavora penso che le cose poi vengono da soli sappiamo che con i nomi o con il curriculum non si vince, c'è bisogno di tanti sacrifici, di tanto sacrificio di mettersi a disposizione dell'allenatore e della società. Fatto questo poi il campo dirà se siamo stati all'altezza, il giocatorio no.